Niki Giussino, il disturbatore televisivo da Tormazia, www.nikigiussino.it e compagnia del mitico Tato Cabaret, che questa sera si servirà. Cioè, è proprio bello stavolta, dai, t'hanno proprio... Sì, sì, è un bel localetto, questo è un bel locali grosso, non localetto poi. Sì, bello, se sta bene. Mamma mia, guarda che capelli. Speriamo che si mangia pure bene, perché l'abbiamo tutti a mangiare. Si, si mangia bene. Poi con tutti i pastini, i pastini, roba dei primi, roba buona qua. Senti, te come stai? Ma Rella a botta per gli amici, Bottarella, come stai? Stasera la devo fare per forza. Sta bene Rella a botta. Per forza, per forza. Senti, ma stasera, cosa vuol dire il problema? E tu stasera devi fare un sacco di casino, perché io sai che qui è pieno di gente oggi. Che il saluto ti aspetta a te, non a me. Non vediamo che se sta già iniziare in più la sala. Eh, qui è... Vabbè, te saluto, va a saluto. Sì, vabbè. Vabbè, nichicciusino.it